San Basilio 1, mi ricevi? Quanti? Sì, stavo andando a Diatrovolo, ho la macchina in posizione, sto sul tronchetto, mi fermo un attimo a Biarbari, eh? Vedo il CIM, la mamma è vero che gli è morta, ma è morta il venerdì di Pasqua. Scendi giù verso la zona di Prati e transita sul 2992. Guarda, abbiamo provato in tutti i modi possibili e immaginabili, invertendo da lì, Imet, Imet, da lì, e da di nascita varia, niente, è negativo, non c'è nulla. Pasquucci, atteniteci un po' in conto.